Buongiorno e bentornati amici di Bet Italia Web e Betting Maniac come ogni anno il tradizionale video bracket sui playoff NFL che iniziano oggi tra l'altro non ci vediamo secondo me proprio da un bracket quello dei playoff MLB dove l'ho sbagliata subito al primo turno di wildcard e rischio di fare così anche oggi perché subito la prima partita ho molti dubbi comunque come sempre utilizziamo il bracket anche per darvi gli spunti sulle scommesse come agiremo ovviamente vi dirò la mia favorita per la vittoria e per ogni partita vi darò anche uno spunto statistico un consiglio per le scommesse non si tratta di scommesse ufficiali quelle rimangono in esclusiva sul canale Telegram VIP di Betting Maniac trovati i riferimenti qui sotto cos'altro devo dire lì poi andremo a motivare a mettere gli stake ad analizzare nel dettaglio a prendere le giocate principali o meno questo lo facciamo un po' così for fun per divertirci come sempre purtroppo non ci sarà Morfeo perché è una cosa che ho deciso all'ultimo momento sto un pochino meglio visto che arrivo da diversi giorni di influenza già ho una voce di merda e l'influenza peggiora le cose vabbè non è quello l'importante mi sono doppato di Rinazina fino a poco fa quindi spero di reggere fino alla fine del video cappellino dei Ravens io sono un tifoso di Baltimore tra l'altro questo è anche il cappellino celebrativo dell'ultimo Super Bowl vinto con Joe Flacco al centro dell'attacco un Flacco che troveremo questa notte e oggi a iniziare i playoff con Cleveland però tra l'altro non tifo solo Baltimore per sportività ma anche per interessi miei personali e nostri visto che avevamo consigliato diverse settimane fa in Antepost la vittoria del Super Bowl dei Ravens che si gioca a 7 di quota l'abbiamo presa a 7 di quota ora si gioca a poco sopra 4 Baltimore è la seconda favorita dietro solo a San Francisco e poi abbiamo preso Lamar Jackson MVP della regular season a 8 e qui aspettiamo solo di cassare perché la quota è scesa a 1.01 proprio microscopica nominale quasi va bene iniziamo iniziamo appunto subito con una partita tosta Houston contro Cleveland Cleveland qui ho già molte difficoltà perché pro e contro allora è Houston una squadra giovane pro e Houston è una squadra giovane è anche un contro quindi poca esperienza va detto che CJ Straud ha giocato una grandissima stagione da rookie dall'altra parte Cleveland c'è Flacco abbiamo detto è una squadra con diversi veterani ha molta più esperienza mi fa paura però c'è un dato particolare Cleveland in casa difensivamente è stata una delle migliori squadre dell'NFL in trasferta ha concesso quasi 30 punti di media è proprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde quindi sono andato su Houston ma qui siamo veramente a un lancio della monetina tra l'altro dal mio tacquino carta e penna dove mi sono segnato diversi punti interessanti per le scommesse vediamo ve ne do uno e vi do proprio Houston over 20,5 punti team total a 1,78 su Univet proprio per quanto detto 30 punti quasi con Cersi da Cleveland speriamo in una bella prestazione di Straud e alla sua prima ai playoff anche se se avete letto il nostro articolo lo sapete i quarterback al debutto in postseason non hanno grandi numeri storicamente nelle ultime stagioni passiamo al Kansas City Chief Miami Dolphins partita dove dovrebbe esserci un freddo pazzesco una delle partite più fredde di sempre intorno ai 0 gradi centigradi un vento che dovrebbe soffiare forte e gelido e questo non aiuterà probabilmente lo spettacolo non aiuterà Miami c'era una statistica interessante Miami è 0-10 nelle ultime partite giocate con condizioni atmosferiche di questo genere del resto a South Beach le condizioni che troveranno oggi in casa dei Chief non le hanno mai viste questo potrebbe essere un problema per Tua potrebbe essere un problema per vedere tanti punti e io qui vi consiglio under 21,5 punti nel secondo tempo perché? perché l'under secondo tempo con i Chief quest'anno è stata una delle partite delle giocate dei trend più vincenti pensate che ci sono visti 15 under su 17 partite nei secondi tempi dei Chief 14,9 punti di media totali alla ripresa nelle partite con Mahomes e compagni in campo un dato che scende ulteriormente quando giocano in casa scende a 13,8 dall'altra parte Miami oltre ad aver deluso spesso le aspettative nelle sfide contro top team come abbiamo detto in attacco potrebbe produrre meno del solito per le condizioni estreme quindi andiamo su Kansas City e io vi consiglio under 21,5 secondo tempo passiamo a Buffalo domani anche qui tempo gelido gli spalatori della neve sono al lavoro questo non dovrebbe aiutare gli over e infatti a me piaceva l'under piaceva l'under 36,5 la linea però era già bassa ed è crollato ulteriormente a 33,5 è un po' al limite vi dico anche che io ho preso Buffalo Buffalo vincente però Pittsburgh più 10,5 non è da sottovalutare gli Steelers hanno fatto il loro anche quest'anno con queste condizioni atmosferiche i Bios potrebbero perdere parte del loro vantaggio molto running game molte difese magari partita che non avrà uno scarto così ampio quindi valutate Pittsburgh più 10,5 oltre all'under rimaniamo in FC passiamo al secondo turno Baltimore contro Houston ho già detto di Baltimore io la metto vincente contro Houston anche se dovesse passare Cleveland la metterei vincente poi ci ritroviamo una bella sfida Buffalo contro Kansas City e io qui metto Kansas City tutte e due a dire la verità hanno un po' deluso quest'anno soprattutto i Bills io mi aspettavo di più da Buffalo quindi in questa sfida da prendere con le pinze io vedo meglio comunque Kansas City finale di conference Baltimore contro Kansas City andiamo con Baltimore passiamo alla NFC e partiamo da Tampa Bay Philadelphia allora inizio subito vuol dire che Tampa Bay già vederla qui è una cosa un po' particolare non me l'aspettavo e queste sono con Baker Mayfield al centro dell'attacco io li davo abbastanza per spacciati mi sembra che avessi giocato pure under team total win in questa stagione una linea che hanno distrutto ma no non l'ho giocata l'avevo consigliata comunque qui potrebbe esserci una sorpresa io ho messo Philadelphia ma qui potrebbe esserci benissimo la sorpresa tra l'altro come idee under 44,5 a 1,77 di quota la linea sta scendendo è molto appoggiata da diversi analisti negli States questa partita la giocano lunedì notte quindi non ho ancora approfondito però ve la butto lì partita da under e io metto Philadelphia vincente poi abbiamo Detroit contro Los Angeles Rams qui potrebbe esserci la sorpresa vado con gli sfavoriti vado con l'upset dei Rams contro Detroit allora Detroit quest'anno mi ha mandato in cassa tre volte su tre ogni volta che l'ho giocata è stata un'annata favolosa io avevo anche consigliato che poteva essere l'annata buona per tornare a vincere la division cosa che non succedeva dal 1993 così è stato partita particolare con Stafford e Goff che si affrontano in particolare Stafford torna a Detroit dove ha passato tanti anni io metto i Rams i Rams sono arrivati alla fine di questa stagione come una delle squadre più in forma possono fare il colpaccio in verità si giocano da sfavoriti però possono fare il colpaccio io qui cosa vi segnalo vi segnalo Rams over 23,5 punti sempre di team total quindi una partita ad alto punteggio nelle ultime sei partite a proposito di squadre calde come dicevamo i Rams hanno segnato 31,3 punti di media i Lions segnano tanto ma concedono anche parecchio quindi ci sta una partita ad alto punteggio dei Rams infine Dallas contro Green Bay io qui metto Dallas vincente un'ottima stagione per Green Bay la prima senza Rogers Love ha fatto un ottimo lavoro però Dallas superiore tra l'altro gioca in casa e sappiamo che in casa i Cowboys sono davvero tosti infatti anche qui vi do un team total e vi do dove è Dallas over 27,5 punti a 1,74 trovate anche questa su Unibet le quote sono tutte Bet365 Unibet over 27,5 punti è una linea alta però ci può stare tolto il finale di stagione in casa che hanno giocato sotto tono e con meno motivazione i Cowboys hanno sempre segnato più di 30 punti nelle precedenti sette partite interne di questa stagione e addirittura in quattro occasioni hanno superato i 40 punti la squadra di Mike McCarthy è imbattuta in questa stagione alla TNT Stadium dove segna 37,4 punti di media concedendone appena 15,9 agli avversari tutto questo per dire dalla spassa e over 30,5 punti segnati dai Cowboys veniamo ora al secondo turno ci troveremo contro i San Francisco 49ers contro gli LA Rams allora i 49ers hanno avuto una stagione ottima hanno avuto un calo verso metà stagione ma dovuto anche ai tanti infortuni e questa squadra abbiamo visto che quando è al completo fa davvero paura e infatti è San Francisco che mi preoccupa tanto qui ovviamente la prendo vincente dall'altra parte Dallas contro Filadelfia e qui invece vado su Dallas che la vedo ancora meglio rispetto a Filadelfia a Filadelfia ho detto tanti dubbi secondo me potrebbe anche uscire al primo turno non è detto tra le deludenti di NFC se da una parte ci sono i Buffalo Bills qui ci sono i Filadelfia Eagles che hanno vinto le loro 11 partite però io avevo scommesso over 11 e mezzo mi hanno un po' lasciato la mare in bocca secondo me hanno fatto delle prestazioni insomma Dallas potrà sfruttare il fattore campo anche qui quindi io prendo ancora Dallas e in finale di NFC ci troveremo così un grande classicone 49ers contro Cowboys e qui io vado a prendere i 49ers e vediamo che al Super Bowl ci troveremo San Francisco contro Beltimo e io no ho sbagliato non ce la faccio volevo farvi vedere e io prendo Beltimo vincente del Super Bowl come detto l'ho scommessa come detto la tifo e quindi mi sembra un'ottima stagione un'ottima squadra a forza Beltimo anche se San Francisco effettivamente fa paura diciamo che poche sorprese da questo bracket sono andato molto sulle favorite qualche upset l'ho giocato qualche dubbio non poco non pochi ce li ho però come vedete alla fine vedo le due favorite in fondo le due tasse di serie numero uno è Forza Ravens ovviamente da qui in avanti anche antepost potremo fare tanti aggiustamenti e tante giocate sempre in esclusiva nel nostro canale Telegram Vip io direi di essere arrivato alla fine quindi vi ringrazio dell'attenzione noi ci risentiamo prossimamente perché dobbiamo iniziare a prendere in mano di nuovo il canale YouTube anche con i contenuti sull'NBA soprattutto assieme a Profeta quindi intanto io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata un buon weekend fate buone scommesse puntate sempre con la testa ciao